Signore e signori, Luis Miguel Rodriguez Grazie a tutti Signore e signori, Luis Miguel Rodriguez Di Miguel Rodriguez Pensate che sta lavorando a 14 metri di altezza e nell'arco della sua carriera ventennale questo artista ha avuto parecchi incidenti anche gravi questi incidenti però ha saputo ritrovare la forza e il coraggio per tornare sul trapezio oscillante questo per dimostrare che è veramente un grande artista grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti vi voglio raccontare una piccola curiosità il nostro Luis Miguel Rodriguez ha chiesto al cameraman della Steadicam che è una camera portabile di spostarsi perché l'esercizio è molto difficile e lui poteva eventualmente cadere cadere su un cameraman può essere molto pericoloso grazie a tutti 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 attenzione vedremo Luis Miguel Rodriguez tra poco reggersi all'attrezzo ormai in oscillazione con le sole punte dei piedi grazie a tutti 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 e adesso addirittura con i soli talloni grazie a tutti né tantomeno rete di protezione molto bravo luis miguel rodriguez